per full art immersion parliamo di roberta bisoli roberta bisoli questa artista classe 1967 artista lombarda che da un po di anni nella scena del panorama dell'arte italiana si sta facendo conoscere e riconoscere per una spiccata personalità artistica gli elementi dell'arte di roberta bisoli sono la ricerca la sperimentazione è una scelta precisa di materiali e soggetti da dipingere la ricerca perché roberta bisoli cerca sempre nel suo far arte nel suo operare quello che può essere un discorso un dialogo un modo di far capire concepire di far conoscere al pubblico delle sue opere una rappresentazione che abbia comunque sempre un elemento simbolico la sperimentazione perché roberta bisoli è una artista che sperimenta in alcune opere dove vediamo dei particolari petali sono realizzati con materiali chimici con dei materiali plastici che lei va a ricercare apposta per dare un effetto ora di leggerezza ora di suavità ora un effetto di impressione che possa appunto colpire il fruitore delle sue opere di scelta perché le scelte di roberta bisoli sono estremamente precise poi appunto però nella realizzazione delle sue opere famose infatti anche le opere con le banconote è inutile dire il significato che può avere costruire una mappa del mondo realizzata e formata da delle banconote o una cascata di banconote vere peraltro che scende su una tela quindi roberta bisoli questa artista che realizzando arte informale riesce a farsi riconoscere dal pubblico per una spiccata personalità pittorica e artistica roberta bisoli per full art immersion